benvenuti su claudio masci.com è uscito l'aggiornamento di whatsapp che permette finalmente di scegliere se avere un tema chiaro oppure scuro quindi finalmente sarà possibile impostare la dark mode su whatsapp in precedenza era già possibile farlo per gli utenti che hanno uno smartphone che permette di impostare un tema chiaro o scuro dalle impostazioni quindi le ultime versioni di android o di ios permettono di farlo le versioni meno recenti non lo permettono ma adesso è possibile farlo direttamente da whatsapp per farlo tocchiamo i tre puntini in alto e tocchiamo la voce impostazioni da qui andiamo su chat tema e possiamo scegliere se avere il tema chiaro o scuro quindi se tocco la voce scura e clicco su ok avrò il tema scuro su whatsapp questo inoltre è utile anche se io volessi avere un tema diverso rispetto a quello standard del mio telefono quindi ad esempio se io sul telefono ho la dark mode attiva quindi il tema scuro attivo per quasi tutte le app quindi per il sistema operativo più tutte le altre app ma magari su whatsapp voglio il tema chiaro posso andarlo a cambiare da qui ovviamente stessa cosa per il contrario se ho il tema chiaro per tutto il resto ma su whatsapp mi piace avere il tema scuro posso andarlo a cambiare quindi è utile per poter scegliere il tema personalizzato proprio solamente per whatsapp e quindi non avere lo stesso del sistema operativo come detto questo è possibile con l'ultimo aggiornamento di whatsapp quindi dovrebbe essersi aggiornato oggi per android credo anche per ios però non ve lo saprei dire quindi dovrebbe essere comunque sarà aggiornato ieri o oggi per entrambi se non avete ancora queste impostazioni quindi se non avete il tema nella chat andate sullo store e controllate che ci sia l'aggiornamento di whatsapp dovreste trovarlo quindi aggiornate whatsapp e troverete il tema nelle impostazioni questo è tutto per questo video vi ringrazio per averlo seguito ci vediamo al prossimo